I chimeri di Arezzo tornano davvero a ruggire oggi il taglio del nastro per il termine dei lavori del restauro delle due fontane che si affacciano direttamente su piazza della repubblica un lavoro che è durato mesi e mesi e che ha visto all'opera oltre a tecnici e idraulici anche esperti restauratori che hanno pensato a riportare all'antico splendore i due animali mitologici simbolo della città. Ecco da oggi Arezzo potrà nuovamente ammirare in tutto il loro antico splendore le due fontane. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.